Una tragedia nella tragedia. Sono entrambi di Favara i due autisti del bus carico di migranti che sono morti a seguito di un incidente avvenuto nei pressi della capitale. Il bus si è scontrato con un tir. Oltre ai due morti ci sono 25 feriti. Nonostante i trasferimenti la situazione a Lampedusa rimane critica con migliaia di migranti dell'hot spot a supportare i volontari locali anche la protezione civile di Sciacca, ieri fiaccolata per la neonata annegata. Operazione antidroga nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Roma. 12 le persone arrestate e 120 chili di sostanza stupefacente e sequestrata. Operazione messa a segno dai finanzieri del GICO di Caltanissetta. Menfi. La bocciatura della delibera di aumento delle aliquote IMU da parte dell'opposizione più che un danno alla mia amministrazione è un danno alla città. Così il sindaco Vito Clemente che poi dice il rischio dissesto è concreto. Gioco d'azzardo online. Numeri allarmanti, quelli che vengono fuori dal report di Feder Consumatori e CGL. In Sicilia si spendono annualmente 8 miliardi di euro. È la seconda regione italiana in questa drammatica classifica. Teatro. Con lo spettacolo Memoria Futura portato in scena ieri sera nella vecchia cattedrale dal sisma del 68, il comune di Montevago è entrato a far parte della rete dei teatri di Pietra che promuove l'unione fra cultura, musica e danza. Benvenuti in studio da parte della nostra redazione giornalistica. In apertura di telegiornale di Telemonte Cronio parliamo della tragedia del bus carico di migranti partito ieri mattina da Porto Empedocle e diretto in Piemonte che stanotte si è scontrato con un tir nei pressi di Roma. Morti i due autisti entrambi di Favara che si davano il cambio nel tragitto una tragedia che ha sconvolto la comunità di Favara. Al nostro telegiornale il sindaco Antonio Palumbo annuncia il lutto cittadino. Massimo D'Antoni. È una tragedia che colpisce la nostra città in un momento difficile perché il 2023 purtroppo si è aperto male e continua peggio. Abbiamo avuto diverse tragedie dei professionisti e soprattutto dei ragazzini morti in incidenti stradali che sta segnando tanto la nostra comunità. Così oggi al nostro telegiornale Antonio Palumbo, sindaco di Favara, nel commentare la tragedia di questa notte, l'incidente nei pressi di Roma, quello che ha visto scontrarsi un bus della Patti Tour che trasportava una cinquantina di migranti in direzione Piemonte ed un tir. Scontro fatale che ha ucciso i due autisti dell'autobus che si davano al cambio, Alberto Vella di 35 anni, Daniel Giudice di 32, entrambi i favaresi. Stiamo parlando di due ragazzi isolari che conoscevano tutti in città, tra l'altro facevano tutte e due parti come responsabili del gruppo folcloristico locale e quindi capisci bene come erano conosciuti dai nostri concittadini anche perché si sono sempre fatti volere bene. Hanno guidato e cresciuto decine e decine di ragazzini nel gruppo e quindi hanno portato la nostra città in giro per il mondo. Quando le salme torneranno a Favara sarà proclamato il lutto cittadino, dice il sindaco. Sì, aspettiamo di avere certezza dei tempi, quando possiamo riaccogliere a Favara questi due ragazzi e poi proclameremo il lutto cittadino. L'incidente è avvenuto alle 2.25 di questa notte sulla 1 tra Guidonia, Montecelio e Roma Nord, all'altezza dell'area di servizio Mascherone. Il pulmone si è ribaltato, sono state inviate 10 ambulanze sul posto, due automediche, tra i feriti due sono stati trasferiti in codice rosso rispettivamente al Gemelli e all'Umberto I, otto in codice giallo distribuiti negli altri ospedali della zona. Altri 35 migranti sono stati visitati ma non trasportati in ospedale perché illesi. Sono stati quindi affidati alla Prefettura. Di fatto quello di stanotte nei pressi di Fiano Romano è stato a tutti gli effetti un incidente sul lavoro. Purtroppo stanattina ci siamo svegliati con questa bruttissima notizia. Ci ha colpito con un pugno allo stomaco e purtroppo negli ultimi tempi le morti sul lavoro sono purtroppo frequenti. Alberto Vella e Daniel Giudice erano partiti alle 10 ieri mattina dall'altenso struttura di Porta Empedocle dove avevano fatto salire sul pulmone, come detto, una cinquantina di migranti. da trasferire in Piemonte. Uno schianto ancora tutto da decifrare. L'autobus della ditta Patti Tour di Favara che ha un contratto con la Prefettura di Agrigento. Funzionari della Prefettura di Agrigento che si sono sincerati già stamattina sull'orario di partenza del pulmone della Patti Tour. Talvolta capita che siamo costretti a far aspettare i bus che dovranno trasferire i migranti anche per diverse ore prima di partire. Magari perché manca qualcuno un documento hanno spiegato dalla Prefettura all'agenzia Anza. In questo caso il pulmone era partito in orario. Gli autisti avevano rispettato i regimi di riposo e pausa previsti dalla legislazione. La causa dell'incidente può essere stata anche stanchezza ma certamente non addebitabile ad un errore della ditta o ad un nostro trattenimento eccessivo. Siamo sconvolti anche noi che quotidianamente ci confrontiamo fra gli altri con le ditte di autolinea e con i loro lavoratori. La situazione a Lampedusa continua a essere complicata. Migliaia di persone sono tuttora nell'hotspot. I trasferimenti sono in corso. Ieri c'è stata una fiaccolata per la bambina di 5 mesi annegata nei giorni scorsi. E intanto nell'isola sono arrivati anche i volontari della protezione civile di Sciacca. Vediamo il servizio. Sul piano personale quali sono le sue sensazioni in questo momento umane? E' brutto. Vedere tutti questi bambini, queste donne, questi uomini che arrivano è una brutta sensazione. Così al nostro telegiornale Calogero Catanzaro, responsabile del servizio tecnico di soccorso di protezione civile, sono sette volontari che da ieri fino a domenico opereranno a supporto logistico delle forze di polizia e dei presidi di soccorso. Hotspot pieno l'inverosimile, dice Catanzaro, è quella proveniente da Sciacca, una delle prime squadre di soccorso aggiunte a Lampedusa da ogni provincia siciliana equipaggiati con materiale, mezzi e attrezzature. Ci diamo di tutto, abbigliamento, scarpe, mangiare, tutto. Tutto quello che è possibile viene dato. Quando siete arrivati a Lampedusa? Siamo arrivati ieri sera, è stata accionata e subito ci siamo adoperati per capire il nostro ruolo, quale fosse che sia a Lampedusa. E quanti siete? Di Sciacca siamo in sette, ma poi ci sono i ragazzi di Palma di Montechiaro, Camastra e a Gira, provincia di Catanzaro. Qual è la riflessione sul vostro ruolo di volontari che vi mettete a disposizione in una situazione che in questo momento, come dicono tutti i giornali, non solo quelli italiani ma anche europei e mondiali, è una situazione molto complicata? Sì, è complicato, ma secondo me il nostro ruolo è importante perché il volontario è qualcosa di importantissimo. E quanti giorni resterete? Noi rimarremo fino a domenica e poi ci daranno il cambio. Quindi arriveranno altre squadre? Sì, già in partenza arriveranno per le 15 altri camion da Palermo e da Catania. Stanno arrivando altre tende, per cercare di fare un campo qua. Ecco, voi avete portato con voi del materiale, che cosa in particolare? Noi abbiamo portato sei tende pneumatiche, delle brandine, gruppi elettrogeni, stiamo cercando di fare un campo, un campo momentaneo nel momento in cui faranno questo, una Lampedusa li porteranno a posto in tempo. Ma qual è la situazione in questo momento a Lampedusa, quella che vede con i suoi occhi lei in questo momento? L'hotpot è pieno, tanti bambini, tante donne, tantissimi uomini. I trasferimenti si riescono a garantire in questo momento? È complicato? No, devi pensare che quando aspettavamo la nave per andare a Lampedusa già scendevano più di 400 migranti, ieri sera quando siamo arrivati siamo scelti noi e stavano trasferendo altri migranti e stamattina già stiamo facendo un altro trasferimento. Mentre gli sbarchi sono continuati anche nelle scorse ore e nell'hotspot adesso sono presenti quasi 4.500 persone, tutte in attesa di andare via per altri centri di accoglienza situati sulla terraferma. La strada di Contrada Embriacola è affollata con centinaia di giovani nordafricani disposti su due lunghissime file per raggiungere i pullmani che li porteranno al porto. Tutti o quasi hanno un asciugamano al collo sulla testa per coprirsi dal sole che continua ad essere particolarmente intenso, alcuni cercano scavalcando i muretti che delimitano le proprietà private di avanzare nella fila, in più occasioni chi era davanti accorgendosi del tentativo e iniziato ad urlare, alcuni si sono spintonati, la polizia poi è riuscita a riportare la calma. Accanto alle colonne di migranti tantissimi volontari della Croce Rossa che provano a spiegare che c'è posto per tutti, che tutti lasceranno l'isola e mentre il governo italiano continua ad aspettare una partecipazione che vada oltre le parole di circostanza da parte dell'Unione Europea, al momento la dimostrazione plastica delle difficoltà è data dai presidi di polizia al varco di Ventimiglia, Frontex annunce che gli sbarchi sono destinati ad incrementarsi ulteriormente. Ieri intanto a Lampedusa c'è stata una fiaccolata per onorare la memoria della neonata di appena cinque mesi, l'ultima vittima innocente delle traversate in mare. Questo popolo è stato caricato da una pesante croce, ha detto il parroco Don Carmelo Rizzo, una croce che durante il percorso è stata portata anche dal sindaco Filippo Mannino. Poi in serata diversi migranti, per lo più minorenni, sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa, hanno cantato e ballato nella centrale Via Roma, dove in un locale della Movida c'è una band che anima una delle ultime serate estive per la festa patronale in onore della Madonna di Porto Salvo. I solani e turisti si sono fermati ad ammirare la danza dei giovani nordafricani che stanno condividendo quello che è un momento di festa integrandosi con la popolazione. Sono 120 chili di droga sequestrati e 12 le persone arrestate a conclusione dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza, denominata colpo secco tra Caltanissetta, Grigento e Roma. L'indagine ha preso l'avvio dalle azioni di contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze di spaccio realizzate dai finanzieri del GICO di Caltanissetta. Una vasta operazione antidroga della Guardia di Finanza tra Grigento, Caltanissetta e Roma ha portato al sequestro di 120 kg di sostanze stupefacenti all'arresto di 12 persone. L'indagine denominata colpo secco e coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta ha preso avvio dalle azioni di contrasto in alcune piazze di spaccio realizzate dai finanzieri delle GICO di Caltanissetta. L'ultimo sequestro operato dai finanzieri è stato effettuato a Roma dove nei giorni scorsi è stato arrestato un cittadino egiziano in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato individuato dopo appositi pedinamenti e attività di osservazione condotte dal GICO di Caltanissetta in collaborazione con i finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Dopo essere stato fermato dagli uomini delle fiamme gialle a seguito di ulteriori accertamenti e perquisizioni a suo carico sono stati rimenuti oltre 100 kg di sostanze stupefacenti dei quali 97 kg di hashish e 4,5 kg di marijuana. Inoltre nel corso delle perquisizioni sono stati rimenuti anche due pistole, un silenziatore e tre penne pistola con le relative munizioni. L'arresto dell'egiziano è stato convalidato dal Tribunale di Roma a seguito di apposita udienza dove l'autorità giudiziaria ha proceduto nei confronti dell'uomo con il rito direttissimo disponendo anche l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Regina Celi. L'ingente sequestro effettuato a Roma giunge a conclusione di complesse indagini portate avanti dal GICO Nisseno sotto la guida della procura di Caltanissetta sin dallo scorso mese di febbraio le cui operazioni di polizia eseguite nelle province di Caltanissetta e Agrigento sono culminate con il sequestro di 17 kg di hashish, 100 g di cocaina e 400 g di marijuana e con l'arresto di 11 persone. Ed altre due richieste di rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sulla ragazza morta suicida a 17 anni ad Agrigento, poco meno di due anni dopo essere stata costretta a fare sesso di gruppo mentre venivano filmate le scene. Il pubblico ministero della procura presso il Tribunale dei minorenni di Palermo ha chiesto il processo per i due 26 anni coinvolti nell'inchiesta che all'epoca dei fatti fra il 2014 e il 2015 non avevano ancora compiuto 18 anni. L'udienza preliminare è stata fissata per il 10 ottobre. Oltre ai due ex minorenni sono coinvolti altri due ragazzi più grandi di pochi mesi nei cui confronti ha proceduto la procura ordinaria di Palermo. Essendo sempre stati maggiorenni ha chiesto da tempo il rinvio a giudizio. L'udienza preliminare al loro carico invece è in programma il 4 ottobre. Il corpo senza vita della ragazzina fu trovato alla rupe Atenea dove si era lanciata nel vuoto dopo aver annunciato il gesto con un lungo e straziante post pubblicato su Facebook. La squadra mobile indagando sull'annunciato suicidio avvenuto il 18 maggio del 2017 è risalita ad alcuni video che immortalavano la 17enne due anni prima mentre faceva sesso di gruppo con quattro ragazzi di cui appunto due all'epoca minorenni. Nonostante la ragazza avesse manifestato apertamente il suo dissenso i quattro giovani a turno l'avrebbero costretta a subire un rapporto sessuale mentre la scena veniva filmata con il telefonino. All'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di minore si aggiunge quella di produzione di materiale pedopornografico. Beni per valori di oltre 12 milioni di euro sono stati confiscati a Francesco Isca, imprenditore di vita nel Belice, attivo nel settore delle costruzioni ed edilizia. Secondo la direzione investigativa antimafia la sua ascesa imprenditoriale sarebbe legata ai rapporti con la mafia della zona. Noti anche i suoi rapporti con Giovanni Filardo, cugino del boss Matteo Messina Denaro. Vediamo il servizio. Beni per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro sono stati confiscati a Francesco Isca, imprenditore di vita in provincia di Trapani, nel Belice, attivo nel settore delle costruzioni, edilizia e commercializzazione di calcestruzzo. La confisca definitiva dei suoi beni è avvenuta secondo la direzione investigativa antimafia di Palermo, posto che la sua ascesa imprenditoriale sarebbe stata legata ai rapporti con la mafia della zona. Oltre alla confisca, a Isca è stato combinato anche il provvedimento della sorveglianza speciale per tre anni e sei mesi. La confisca ha colpito l'intero impero di Francesco Isca. Nel dettaglio si tratta di tre società che si occupano di produzione di calcestruzzo ed edilizia, una che gestisce il parcheggio nel parco archeologico di Segesta, sei rapporti bancari, 132 beni immobili e terreni e 24 automezzi. Il provvedimento di confisca è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, su proposta della DIA. La pericolosità sociale di Isca, secondo l'accusa, emergerebbe dal presunto legame con il capo mafia belicino Leonardo Crimi. Sulla base delle indagini della DIA, Isca avrebbe sfruttato la forza di intimidazione di Cosa Nostra per la sua scalata nel settore del calcestruzzo e dell'edilizia. Negli anni sarebbero pure emersi i suoi rapporti con Giovanni Filardo, cugino del boss Matteo Messina Denaro, e con Vito Nicastri, il re del vento, a cui tempo fa è stato confiscato un patrimonio milardario. Non solo, Isca sarebbe stato in rapporti anche con Salvatore Crimi e Calogero Musso, considerati rispettivamente capo mafia e reggente della famiglia mafiosa di vita. I rapporti erano talmente stretti che Isca avrebbe mantenuto economicamente la sorella di Crimi e il figlio di Musso. L'imprenditore, di conseguenza, avrebbe ottenuto sia le risorse finanziarie per avviare ed alimentare le proprie aziende, sia la copertura mafiosa per espandersi sul mercato, sbaragliando facilmente la concorrenza ed imponendosi sugli affari legati alla realizzazione delle grandi opere pubbliche, a danno delle imprese concorrenti. Nel provvedimento di confisca, descritta anche la partecipazione dell'imprenditore edile in prima persona, ha numerosi episodi estorsivi. Proseguiamo con le nostre notizie. L'aumento delle aliquote Imo è stato imposto dalla difficile situazione economica in cui si trova il Comune di Menfi con un disavanzo di 13 milioni di euro. Si rischia il dissesto e la bocciatura della delibera da parte dell'opposizione, più che un danno alla mia amministrazione, rappresenta un danno per la città. Così il sindaco Vito Clemente, rispetto a quanto è successo in Consiglio Comunale e alle dichiarazioni ieri del leader dell'opposizione, il consigliere Ludovico Viviani. Non è assolutamente vero che non abbiamo cercato un dialogo con l'opposizione, conclude Vito Clemente. Vediamo i particolari nel servizio. La bocciatura della delibera di aumento delle aliquote Imo da parte dell'opposizione, non è più che un danno alla mia amministrazione, è un danno fatto alla città. E' quanto dichiarà oggi al nostro telegiornale il sindaco Vito Clemente, partendo proprio dalla situazione economica difficilissima in cui si trova il Comune con un disavanzo di 13 milioni al quale si deve far fronte. I numeri eredati alla presente gestione che fanno riferimento al conto consuntivo 2021 sono pari a un disavanzo di amministrazione di oltre 13 milioni di euro. E voglio ricordare che invece il numero esatto ereditato dal vice sindaco Viviani era quello invece di 3 milioni di euro. Nel giro di pochi anni si è passato da un disavanzo di gestione da 3 milioni di euro del 2018 a 13 milioni di euro già statuiti nel 2021 ma che col conto consuntivo 2022 leviteranno ancora e si aggirano intorno ai 15 milioni di euro. Quindi questo comporta che è necessario che entro il 31 di dicembre bisogna accantonare una quota, una rata per fare il piano di riequilibrio voluto dal precedente consiglio comunale all'unanimità di circa 750 mila euro. Per fare questo tutte le misure che noi abbiamo già messo in atto erano insufficienti secondo il revisore dei conti e avevano necessità ed era determinante l'aumento dell'unica liquida che era possibile aumentare in quanto acqua e tributi e latari vanno a coprire i costi di gestione. Senta, però Viviani sosteneva, lei in campagna elettorale aveva detto altro, aveva detto che c'erano altri modi per coprire questo disavanzo e che non avrebbe aumentato le tasse e l'Imo in particolare? Ha ragione, lo confermo, l'Imo in particolare non l'ho detto, anzi è l'esatto contrario, che il paradosso è che proprio nel programma di Viviani si diceva che doveva aumentare l'aliquote Imo. Quindi ha proposto alla città di aumentare l'aliquote Imo, quando i revisori dei conti hanno imposto di aumentarli loro hanno votato contro, quindi se c'è un controsenso forse è questo. Io nel rispetto del programma elettorale ho mantenuto l'aliquote Imo dell'anno precedente, ma i revisori dei conti mi hanno imposto altro e quindi gli uffici si sono dovuti ad agguare a fare questo tipo di proposta in Consiglio Comunale. Non è vero, dice poi il Sindaco Clemente, che non abbiamo cercato il dialogo con l'opposizione. Assolutamente non rispondo al vero, tanto che io il 7 di settembre ho convocato con nota ufficiale del 4 di settembre una riunione alla presenza del Collegio Revisore dei Conti proprio per parlare delle soluzioni che insieme si potevano proporre per superare questo tema. In funzione, ripeto, degli impegni assunti in Consiglio Comunale del 31 luglio nel corso del quale ho detto che dovevamo attendere i numeri della relazione di inizio mandato. Ho fatto questa riunione e nessuno di loro ha ritenuto opportuno di partecipare. Ci tengo solo a chiarire e a precisare un altro aspetto, ovvero che anche in sede di Consiglio Comunale io nel mio primo intervento ho chiesto che eravamo disponibili anche in sede di Consiglio Comunale ad acquisire e valutare democraticamente le proposte alternative che venivano dalla maggioranza consigliare. Questo non è accaduto. Io ho visto solo interventi pieni, leggermente pieni di accredine e tanta inesperienza. È la volontà quasi che non ci si rendeva conto che non si stava facendo del male all'amministrazione ma alla comunità e all'ente comune. Comune di Menfi rischia il dissesto? Alla luce della bocciatura della proposta del Limo rischia il dissesto ma oltre che rischiare il dissesto il vero dramma che possibilmente ancora di cui nessuno si è reso conto è che qualora invece riuscissimo ad evitare il dissesto e quindi a portare avanti il piano di riequilibrio con tutte le difficoltà del caso perché lì c'era un introito di 480 mila euro che peraltro andavano a gravare solo alle famiglie in misura ridottissima. Stiamo parlando che il massimo per ettaro di un vigneto era 40 euro che venivano a pagare e soprattutto anche delle cose inesatte che sono state dette perché sia gli agricoltori, i coltivatori diretti che gli improntatori agricoli sono esenti dal pagamento del limo agricola. Quindi anche lì era stata detta qualcosa di inesatto. Diciamo che si è peccato un po' di inesperienza e c'è stata molta molta predisposizione a guardare più l'aspetto politico che l'aspetto contestuale che doveva essere prioritario per chi dice di volere il bene comune e volendo il bene comune bisogna talvolta rendersi conto che bisogna caricarsi sulle spalle delle responsabilità che l'elettorato ha dato. I casi delle truffe che corrono su WhatsApp si sono moltiplicati nel corso delle ultime settimane. Sono già 10 le denunce presentate alle forze dell'ordine in provincia di Agrigento soltanto riferite a questi giorni di settembre. I truffatori si spacciano per parenti o figli in difficoltà economica e chiedono bonifici o ricariche poste pay. Altre truffe sospette vengono inviate invece tramite sms o email. Indaga la polizia postale che chiede a tutti di fare attenzione ai numeri sospetti e non rispondere a emittenti di cui non si è certi. Vediamo il servizio. Sono almeno 10 in provincia di Agrigento i casi denunciati alla magistratura per presunte truffe corse su WhatsApp, la nota app di messaggistica telefonica. Soltanto nelle prime due settimane di settembre le denunce sono più che raddoppiate, segno che inconsapevolmente ignari agrigentini continuano a cascare in quelle che sono vere e proprie trappole psicologiche. Solitamente la truffa arriva attraverso un messaggio che riporta un test allarmante di chi si spaccia per figli o parenti stretti in difficoltà economica. Seguono le richieste di denaro o di ricarica alla post pay, a cui evidentemente alcuni abboccano prima di rendersi conto nei giorni seguenti di essere stati raggirati da qualcuno che ovviamente nel frattempo è scomparso. Gente senza scrupoli, a caccia di soldi, che soprattutto punta soggetti fragili o di mezza età. La falsa richiesta di aiuto di solito riporta una frase del genere. Sono tuo figlio X, ti scrivo dal telefono di un amico. Oppure il mio telefono si è rotto, scrivimi a questo numero. Non telefonare, ma scrivimi soltanto, è un momento di difficoltà, è un'emergenza o bisogno di soldi. Frasi del genere. Per poi successivamente inviare link sospetti oppure vere e proprie richieste economiche con tanto di IBAN o credenziali post pay. La polizia postale, più volte sollecitata in tal senso, sta portando avanti le relative indagini e consiglia sempre di non rispondere a numeri sospetti o sconosciuti, cancellare questo tipo di conversazioni e soprattutto di non memorizzare mai in rubrica questi numeri telefonici. Oltre alle richieste economiche, sono molto in voga anche le frodi di identità, infettare il telefono con malware o rubare l'account whatsapp altrui. Altre truffe giungono tramite email con link tra i più disparati, oppure tramite sms con messaggi su presunti pacchi da consegnare o per presunti attacchi informatici ai conti bancari o postali. Si consiglia sempre di non rispondere né di cliccare su nessun link. Occorre sempre verificare prima la correttezza del messaggio e poi anche quella del mittente. Non reagire mai d'impulso sui messaggi che promettono sconti o promozioni e che chiedono di agire velocemente. Non seguire mai link o istruzioni se non sai perfettamente ciò che stai facendo. Chiama chi ha inviato il messaggio e verifica la questione. Non inoltrare mai il messaggio che hai ricevuto ad amici, colleghi e conoscenti. Ricorda che il contenuto di questi messaggi può variare a seconda del periodo dell'anno in cui ti trovi. È il caso per esempio di finte promozioni inviate in occasione di Halloween, Natale e così via. Un altro scenario potrebbe essere quello in cui i cybercriminali sfruttano una situazione particolare di emergenza puntando alla sensibilità delle persone, come è successo durante la pandemia del coronavirus che si è verificata nel 2020. Un consulto con chi eroga servizi IT può sicuramente aiutarti a capire come proteggerti al meglio da questo tipo di truffe. E numeri allarmanti quelli che emergono dal report di Feder Consumatori e CGL sul gioco d'azzardo online in Sicilia. Oltre 8 miliardi l'anno è la seconda regione italiana in questa drammatica classifica. Vediamo. Il libro nero dell'azzardo appena pubblicato da Feder Consumatori e CGL mette in luce l'enorme giro di denaro che ruota intorno al gioco d'azzardo sia nelle sale gioco e sale slot fisiche che online. Con una netta preponderanza del gioco in persona al nord Italia e di quello a distanza al sud Italia. La Sicilia è la seconda regione per euro spesi nel gioco d'azzardo online, oltre 8 miliardi l'anno. Nel dettaglio le cifre complessivamente spese in ogni provincia per il gioco online sono compatibili con la popolazione residente. Palermo è in testa alla classifica con 2 miliardi e mezzo, l'ultima è Enna con 238 milioni. Secondo il rapporto di Feder Consumatori e CGL in provincia di Agrigento sono stati spesi nel gioco d'azzardo online, 546 milioni di euro. Drammatici i dati della giocata media pro capite a livello provinciale con 3 siciliane in betta alla classifica nazionale Messina, Palermo e Siracusa. Guardando dentro le province si scoprono comuni in cui la spesa media pro capite per il gioco d'azzardo è a dir poco allarmante, è il caso di Patti con 4.684 euro, ma anche di Lipari con 3.600. Purtroppo il gioco d'azzardo online è un'eccellente lavanderia per il denaro sporco, afferma il presidente di Feder Consumatori Sicilia Alfio Larosa e molti siti di scommesse apparentemente legali in realtà hanno alle spalle società in rapporti con la mafia. Alla luce della crescita esponenziale del mercato delle scommesse online, di queste infiltrazioni mafiose, dell'impatto sociale fortissimo e deleterio che ha spesso il gioco d'azzardo, Feder Consumatori torna a chiedere che lo Stato alzi il livello della vigilanza, rendendo più stringenti i requisiti per operare in questo settore e passando al setaccio la struttura societaria delle aziende che stanno dietro le piattaforme. Scommettere non è illegale, precisa Larosa, ma può diventare un problema, persino una dipendenza, e può foraggiare le organizzazioni mafiose, per non parlare del frequentissimo sovraindebitamento dei giocatori accaniti che può portarli tra le braccia di estorsori di ogni tipo. Insomma, conclude il presidente di Feder Consumatori Sicilia, non possiamo ignorare questi dati e questo fenomeno, ed è per questo che l'Associazione ha redatto il report. Fiaccolata ieri sera per le strade di Brancaccio per ricordare padre Pino Puglisi, ucciso 30 anni fa la sera del 15 settembre dalla mafia. In 600 ieri sera si sono ritrovati nel luogo dove è stato assassinato dal mafioso Salvatore Grigoli su ordine dei boss Filippo e Giuseppe Graviano, capi del mandamento di Brancaccio. Il corteo, organizzato dalla chiesa di San Gaetano con il parroco Don Maurizio Francofonte dal centro padre nostro, ha raggiunto la via Fichidindia, nel terreno dove dovrebbe sorgere il complesso parrocchiare voluto da Don Pino Puglisi. Oggi alle 18 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica alla Cattedrale di Palermo. Alle 21 sarà presentata sul Sagrato una nuova edizione del Discepolo di Lia Cerrito, testo molto amato da Don Puglisi e utilizzato spesso durante i campi come spunto di meditazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alla memoria di Don Puglisi con un messaggio in cui ha detto che il suo radicamento a Brancaccio esprimeva un significato e una forza che i mafiosi non riuscivano proprio a tollerare. Cambiamo argomento, tre nuovi dermatologi a tempo indeterminato all'ASP di Agrigento. La direzione aziendale al termine delle procedure concorsuali ha recentemente approvato la graduatoria finale per l'emissione in servizio di tre nuovi dirigenti medici specializzati in dermatologia. I neoassunti assumeranno l'incarico a tempo indeterminato al termine delle verifiche di donità al lavoro da parte del medico competente aziendale e dopo la formale sottoscrizione del contratto. Il loro inserimento contribuirà a potenziare la quantità delle prestazioni specialistiche erogate in provincia. Parliamo di concessioni balneari. A pochi mesi ormai dall'ultima e improrogabile scadenza, quella del 31 dicembre, dal Governo non sono ancora arrivate le direttive sulla modalità di svolgimento delle gare e i comuni del litorale agrigentino non hanno ancora provveduto a predisporre e adottare i piani di utilizzo delle aree demaniali marittime. Lo denuncia il sindacato italiano balneari di Confcommercio Agrigento. Vediamo il servizio. Concessioni balneari ormai scadenza ma tutto tace sia a livello nazionale sia a livello locale e il sindacato dei balneari di Confcommercio Agrigento ad esprimere oggi la grande preoccupazione del comparto. Il 31 dicembre prossimo scadono i titoli delle concessioni balneari italiane così come sentenziato dal Consiglio di Stato già nel novembre 2021 respingendo la richiesta di proroga governativa al 2033 perché ritenuta in contrasto con la direttiva Bolkestein che proibisce i rinnovi automatici sulle concessioni pubbliche. Le concessioni saranno riassegnate tramite gare pubbliche e i comuni sono chiamati a predisporre i bandi di gara. Solo allora potranno avvalersi della mini proroga di un anno stabilita dal Governo Draghi per dare tempo alle amministrazioni di espletare le gare di evidenza pubblica. Quello che il sindacato dei balneari di Confcommercio Agrigento denuncia è il silenzio del Governo sugli atti formali e quindi sui modi e i tempi dell'applicazione esecutiva della normativa comunitaria. Per riassegnare gli spazi delle spiagge servono i decreti attuativi che dovranno stabilire in sintesi le modalità di svolgimento delle gare. La scadenza delle concessioni è imminente e gli operatori del settore ancora nulla sanno sulle procedure che dovranno seguire per richiedere ed ottenere le nuove concessioni. Peraltro i ritardi non vengono attribuiti solo al Governo. Il sindacato balneari di Confcommercio evidenzia anche il silenzio delle amministrazioni locali. Da anni e anni i sindaci del litorale Agrigentino sono chiamati a predisporre e adottare i piani di utilizzo delle aree dei maniari marittime senza i quali non sarà comunque possibile espletare le gare. Piani che potrebbero ampliare, questo auspicano gli operatori del settore e i sindacati, le aree dei maniari da destinare agli stabilimenti balneari rispetto alle strutture attualmente operanti. Disattendere tale adempimento dichiara Geroniesi, Vice Presidente di Confcommercio Agrigento con delega il sindacato balneari renderà inesorabile il tracollo dell'intero comparto e dell'indotto. Le amministrazioni comunali, conclude, devono avere chiaro che le strutture balneari sono un patrimonio per tutto il territorio, sia economico che identitario, da proteggere e valorizzare e vanno affiancate e sostenute in un percorso di crescita. La stagione turistica non finisce, lo dimostrano le prenotazioni per settembre, ottobre e novembre che confermano come sia possibile destagionalizzare il turismo a Sciacca. È quanto evidenziano oggi Ezio e Annarita Bono, amministratori di Buono Vacanze, in relazione ai numeri già registrati nei mesi clou della stagione, ma anche alle presenze previste per i prossimi mesi, soprattutto stranieri. Un messaggio positivo, quello che hanno voluto lanciare all'intero comparto economico cittadino, convinti che una città come Sciacca debba investire sul turismo tutto l'anno, migliorando l'accoglienza e la qualità dei servizi. È il giornalista Massimo D'Antoni, presidente di Telemonte Cronio, il protagonista del nuovo appuntamento con San Marco Restart, la rassegna artistico-letteraria curata dal giornalista Giuseppe Recca e organizzata dal Comitato Provinciale Asi presso la struttura Buono Vacanze. Si parlerà di informazione, storia delle tv private, fatti e personaggi della vita cittadina. La rassegna, oltre che in presenza, viene proposta anche in diretta sui canali social. L'appuntamento è alle ore 19. Occupiamoci di teatro, torna in scena stasera la compagnia Chalot con lo spettacolo Per virtù dello Spirito Santo. Si tratta dell'ultima commedia scritta e diretta da Tonino Genuardi, proposta lo scorso agosto con due appuntamenti all'atrio inferiore che hanno registrato il tutto esaurito. Il testo è ambientato negli anni Ottanta e vede in scena 12 personaggi le cui vicende si intrecciano all'interno della comunità parrocchiale che accoglie ogni domenica i fedeli, tra questi la famiglia di un ricco scapolo a cui ambiscono tutte le donne della comunità. Una storia divertente, resa ancora più esilarante dall'interpretazione dei protagonisti. È possibile acquistare i biglietti al botteghino a partire dalle 19. L'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21. E attraverso lo spettacolo Memoria Futura, che si è tenuto ieri sera ai piedi della vecchia cattedrale distrutta dal terremoto del 68, il comune di Montevago è entrato a far parte della rete dei teatri di Pietra, un modo per promuovere il connubio tra teatro, musica e danza. Ne parliamo in questo servizio. Teatro, musica e danza nell'ambito di uno spettacolo straordinario ideato per l'occasione, che segna l'ingresso di Montevago nella rete dei teatri di Pietra. Grande successo ieri sera per Memoria Futura, iniziativa che si è svolta ai piedi dell'antica cattedrale tra i rudeli del terremoto che nel 1968 devastò la valla del Belice. In scena Sergio Vespertino, Giuseppe Milici, accompagnato da Antonio Zarcona Pianoforte, Paola Saribas, Lucia Cinquegrana ed Elisa Carta Carosi. Il progetto, ideato dalla rete dei teatri di Pietra, è sostenuto dalla cooperativa Agricantus, dall'Associazione Culturale Estreusa e dalla MDA Produzioni. I dettagli in queste interviste. All'interno di questa cattedrale, l'arte, la musica, il teatro daranno il meglio valorizzando il luogo, valorizzando la natura che c'è attorno e per la prima volta questo luogo, che è stato luogo sacro, oggi luogo di memoria, è il protagonista di quanto il maestro Gatti e il circuito, teatri di Pietra, offriranno. È un assaggio, se così possiamo dire, di un progetto che vorrà vedere il futuro nel prossimo anno. Questa sera l'idea è stata quella di offrire in qualche maniera questo spettacolo e lo stanno offrendo in maniera gratuita, noi stiamo pagando soltanto la SIAE, per poterci rendere conto di cosa questo luogo può dare e cosa questo luogo può far vivere. Noi questa sera loro, ma abbiamo visto anche durante tutto il cartellone estivo, abbiamo avuto attori di teatro, musical, abbiamo cercato in qualche maniera di valorizzare questo luogo e abbiamo visto anche proprio il senso di filialità che c'è stato da parte della gente. Quindi anche questa sera, pur essendo ormai a metà settembre ed essendo finita la stagione estiva, ma non certamente per il clima, perché è una serata bellissima, tanta gente è arrivata proprio per godere di questo momento. Sicuramente questa sera la fa da padrone la novità, e la novità è essere all'interno della cattedrale di Montevago. Da questo momento faremo rientrare Montevago e la sua cattedrale, ma anche il suo centro storico, all'interno dei siti dei teatri di Pietra. Teatri di Pietra che quest'anno ha toccato 12 siti archeologici monumentali, uno pensa a Sol, Unto di Nera, ma pensa anche al grande castello di Milazzo, o a Recleamino, piuttosto che no, l'estraordinario parco archeologico di Montegliato. Bene, siamo veramente contenti che nella Grigentino ci sia un punto, un punto che abbia una memoria recente. I teatri di Pietra sono innanzitutto la scelta, la volontà, la determinazione di amministratori da una parte, di artisti dall'altra, per far sì che tutto il patrimonio si tolga da quella etichetta di marginale, di periferico, perché una cosa l'Italia e la Sicilia in particolar modo non c'è luogo che sia secondo o terzo. Cultura si terrà a novembre la quindicesima edizione dello Sciacca Film Fest. Per motivi organizzativi l'inizio della manifestazione è slittato, infatti era previsto per il 14 settembre. I grandi successi estivi hanno di fatto spostato tutte le uscite settembrine dei film, comprese le opere presentate alla Mostra del Cinema di Venezia, dalla quale abbiamo sempre attinto, ha spiegato il patron Sino Caracappa. Ascoltiamolo in questo servizio. La quindicesima edizione dello Sciacca Film Fest si svolgerà a novembre. Slitta dunque l'inizio della manifestazione che doveva svolgersi dal 14 al 17 settembre alla multisala Badia Grande. I motivi sono organizzativi. I grandi successi estivi di luglio e agosto hanno di fatto, causa le lunghe teniture, spostato tutte le uscite settembrine dei film, comprese le opere presentate alla Mostra del Cinema di Venezia, dalla quale abbiamo sempre attinto, ha spiegato in un post su Facebook il patron Sino Caracappa. Le date comunicate ad inizio estate a continuato Caracappa non tenevano conto della coincidenza con la Festa del Cinema, iniziativa del Ministero della Cultura, alla quale abbiamo sempre aderito, che si svolgerà dal 17 al 21 settembre. Al prezzo di 3,50 euro si potranno vedere tutti i film in uscita. Inoltre, aggiunge l'ideatore dello Sciacca Film Fest, dal 27 in poi si svolgerà un'altra iniziativa in fase di definizione, che offrirà finalmente agli spettatori la possibilità di vedere il film a quale hanno partecipato decine di comparse di Sciacca. Ci è sembrato saggio, ha spiegato ancora Sino Caracappa, non sovrapporre le diverse iniziative, ma spalmarle meglio, in attesa che i calendari delle uscite dei film si definiscano puntualmente. Gli appuntamenti settembrini alla multisala Badia Grande, dunque, non mancheranno ugualmente, ma la Kermesse del Cinema vera e propria, con tutti i suoi appuntamenti, si svolgerà un po' dopo rispetto al periodo consueto. Si sta continuando a lavorare all'edizione 2023, di cui dimostriamo già il nuovo logo realizzato dalla saccenze Federica Crisafi in arte Frida. Dal canto nostro, scrive ancora Sino Caracappa, avevamo già pronte almeno quattro sezioni, una retrospettiva dedicata ad un grande regista spagnolo, l'omaggio a un grande scrittore americano, dal quale sono stati tratti film di grande prestigio, un'iniziativa musicale dedicata alle colonne sonore e in collaborazione con altre associazioni anche altre iniziative. Arte, musica, cinema, libri e tanti altri momenti, conclude Caracappa, vi aspettano a novembre. E sempre per la cultura e la letteratura, la rubrica Il Libro del Giorno. Personaggio cruciale e misterioso, al contempo uomo di intelligenza, forze e volontà fuori dal comune, Saulo di Tarso, meglio conosciuto come Paolo, fu colui che raccolse l'irripetibile magistero di Gesù di Nazareth e lo canonizzò, forgiando il cristianesimo per come lo conosciamo oggi. Fine mediatore da un lato, ma decisionista politico dall'altro, Paolo seppe traghettare un'esperienza spirituale in un'istituzione storica giunta più o meno immutata fino ai nostri giorni, assurgendo così a figura fondamentale di tutto il mondo cristiano. In questo suo nuovo libro, al contempo saggio e narrazione, quindi sicuramente ascrivibile al genere della narrativa, Corrado Augas ci offre una cronaca meravigliosamente raccontata con la sua capacità di ricostruire e analizzare la storia e la sua attitudine divulgativa. Paolo Augas ripercorre la vicenda di Paolo nei momenti topici della sua vita pubblica e religiosa, che ce lo hanno fatto conoscere come l'uomo che inventò il cristianesimo. Paolo, l'uomo che inventò il cristianesimo di Corrado Augas, edito Rai Libri. Bene, per il momento ci fermiamo qui. Grazie, come sempre, di averci seguito. Arrivederci.